Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla statale 19 delle Calabrie, sino al 10 agosto, per lavoro e attivo un senso unico alternato in località Atena Lucana. Sulla statale 268 del Vesuvio, sino alle 17 di oggi, è chiuso il tratto tra gli svincoli Ottaviano Zona Industriale ed Ottaviano Centro, in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, sino alle 14 di oggi, è chiuso lo svincolo Italia 90 in ingresso in entrambe le direzioni. L'ingresso alternativo consigliato è quello di Agnano. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, carregiata ridotta tra Fratte e Ponte Cagnano, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari. Oggi per uno sciopero di 24 ore sono possibili disagi per gli utenti delle linee NM e DEA. I servizi minimi sono garantiti secondo diverse modalità. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza Servizio a cura di Acamir e Regione Campania